E gli azzurrini di Nicolato vincono al granillo contro l'Ucraina 3-1, ultima amichevole prima dell'europeo che vi ricordo sarà in pieno giugno, Italia che è inserita nel girone con Francia, Norvegia e Svizzera e su quattro squadre passano le prime due, visto che sono quattro giorni da quattro e le prime due di ogni girone vanno direttamente ai quarti di finale. Ma al di là di questo poi sicuramente sarà da seguire a tutti i costi questo europeo Under-21, un'Italia che chiude bene la sessione di amichevoli, una convincente vittoria nonostante la formazione è completamente rivoluzionata dalla vittoria in terra serba e devo dire che nonostante i tanti campi la squadra ha risposto bene sul campo in termini di approccio, in termini di mentalità, di aggressione e anche dal punto di vista tattico visto che la squadra ha sempre tenuto bene il campo con questa difesa a tre e quindi devo dire che la prestazione è assolutamente positiva, Turati in porta quest'oggi, Ocoli, Lovato e Pirola in difesa, Bellanova a destra, Udogie a sinistra, con Bove, Ricci e Fagioli a centro campo davanti. Cancelliere Colombo dall'altro poi nel finale ci sarà spazio anche per Fabiano e Pierozzi, che sono due giocatori che il Granillo lo conoscono molto molto bene, però vi dicevo una vittoria che io penso essere assolutamente meritata, anzi andava chiusa prima la partita, questo è l'unico rammarico perché la squadra ha creato ma non ha saputo finalizzare prima poi del pareggio momentaneo dell'Ucraina. Un approccio positivo alla partita, un'Italia che pressa alto, cerca di recuperare il pallone in zone alte di campo per poter così rendersi pericolosa e devo dire che lo fa abbastanza bene, in termini di manovra non riusciamo a manovrare con grande continuità come per esempio si è fatto in Serbia o si è fatto negli ultimi minuti per via della loro pressione, loro riuscivano a venirci a prendere alti per cui ovviamente non è così facile riuscire a uscirne fuori dal pressing avversario palla a terra. Brava però l'Italia poi a 17esimo a sbloccarla, fallo di Vivciarenko sulla destra ai danni di Cancellieri che tra l'altro si era liberato bene, punizione che va a battere i fagioli, incorna l'ovato e sblocca così la partita. Sono contento anche che la squadra riesce a segnare in questo modo, ovvero con dei colpi di testa, oggi due gol fatti in questo modo perché sono dinamiche importanti che anche in ottica europea possono essere decisive perché in partite così, giocate sul filo del rasoio, anche un calcio piazzato, un cross deve essere sfruttato, per cui bene anche sotto questo aspetto. Tutto sommato però la partita nel suo prosieguo nel primo tempo è abbastanza equilibrata, alla fine l'Italia riesce a rendersi molto pericosa sulle fasce, dove è molto brava con Udogi e Bellanova nell'uno contro uno, è brava anche nel triangolare e quindi i maggiori pericoli si creano proprio lì, dove ripeto comunque abbiamo tanta qualità e tanta bravura. Un'Italia che poi in particolare nella fase centro finale, diciamo così, della partita crea tante occasioni ma non riesce a poi finalizzarle a dovere, per esempio Fagioli ne ha ben tre di occasioni nei minuti finali, di cui una su calcio di punizione, fallo del numero 18, ovvero di Mikailenko, credo, o sbaglio, di Mikailenko, che atterra lo stesso Fagioli che poi va a battere la punizione e colpisce il palo, quindi un'Italia pericolosa ma che non riesce a, come dicevo, finalizzare e chiudere la partita. Devo dire che mi è piaciuta anche molto la gestione delle forze della squadra, perché non ho visto una squadra che ha pressato in maniera ossessivo-compulsiva, però ha pressato nei momenti giusti, cioè quando c'era da recuperare si recuperava, quando c'era da pressare si pressava, e questo è un altro aspetto molto importante per cercare di diventare sempre più maturi come squadra. Nel secondo tempo l'approccio è positivo, l'Italia prosegue nel suo gioco e crea tante occasioni, in particolare, ripeto, grazie a questa superiorità numerica che spesso viene creata sulle fasce, un'occasione clamorosa al 53esimo, Udogi ruba palla molto bene a centro campo, rivaltiamo quindi l'azione con il cancelliere che arriva al tiro e scheggia la traversa. E poi però, dopo una serie di occasioni che non sono state finalizzate, nonostante l'Italia abbia sostanzialmente dominato, arriva questo gol inaspettato da parte dell'Ucraina. Tutto nasce al 67esimo da un errore, forse l'unico, di Udogi che sbaglia un passaggio. Loro ribaltano l'azione, arrivano al tiro con Kashuk, che è certamente il calciatore più interessante, più tecnico di questa Ucraina, assieme anche a Sikan, che oggi è stato un pochino in ombra, però un attaccante che in patria segna tanto. Per il resto, ecco, lo stesso Kashuk, dopo aver vinto un rimballo, arriva al tiro e Bucaturati, che certamente poteva leggerlo meglio questo tiro. Per il resto, un'Italia che subito però reagisce, ha la forza di ribaltarla fin dal subito e proprio grazie a un'accelerazione di Udogi sulla sinistra, arriva al tiro prima con Colombo e respinge il portiere. Sulla ribattuta, a porta vuota, Oristanio colpisce la traversa, quindi terzo legno di giornata, e poi ancora sulla ribattuta segna Colombo, finalmente, e fa così esplodere di gioia il granillo. Dopo pochi minuti arriva anche il terzo gol, che chiude i giochi all'ottantunesimo. Rilancio di Turati, Fabian vince un contrasto aereo, palla che viene raccolta da Oristanio, che mette questo pallone in mezzo per Colombo, che di testa bucca le mani del portiere e trova la terza marcatura di giornata. Quindi, fase di gestione nei minuti finali per la Nazionale, che comunque qualcosina rischia, perché diversi errori vengono commessi, in particolare sul 2-1. Qualche pro ne è perso di troppo, qualche errore di distrazione di troppo, che sicuramente avrà fatto arrabbiare il cittini colato. Però, tutto sommato, la gestione c'è stata, è stata positiva, squadra comunque che fino alla fine ha voluto vincere la gara e giustamente l'ha portata via. Tiri 14-3, ti rimporta 9-2, possesso palla 51-49, occasioni pericolose 5-2. Velocemente Mini Pagella, allora bene, Udoji è migliore in campo, salta con grandissima facilità all'uomo, crea tantissime potenziali occasioni pericolose. In fase difensiva, qualche volta riesce anche a tornare, dare una mano ed essere importante, però qualche errorino ancora lo commette, in particolare in questi passaggi in orizzontale, che spesso li sbaglia. Bene anche Bellanova, anche lui molto bene sulla destra, soprattutto il primo tempo, spinge tanto e dà comunque manforte alla squadra. Bene Fagioli, tanta qualità, tanta tecnica, certo poteva essere più preciso negli ultimi metri, però tutto sommato anche le buona partita. E bene anche Colombo, che nel primo tempo si è visto un pochino poco, a parte qualcosina. Tutto sommato una prestazione che viene risaltata, in particolare per la buona doppietta, in cui è stato molto bravo a sfruttare le occasioni perché gli si sono presentate. Per il resto una prestazione tutto sommato discreta, discretamente andante. Ma le vi dico il solo Turati, perché secondo me puoi e deve fare di più. In occasione del gol, assolutamente doveva fare di più. E poi anche successivamente ha sbagliato un passaggio che poteva costare caro, per cui un po', nonostante sia stato veramente poco impegnato, ecco, in quelle poche occasioni l'ho visto deconcentrato, per cui per questo lo vado un po' a, se vogliamo punzecchiare. Comunque, io a questo punto mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.